Buonasera carissimi, sono in vostra compagnia anche questa sera. Saluto subito subito la nostra Carluccia Occhi Verdi. Carla quest'anno poi è più bella del solito. Dunque, visto il successo delle ricette cinesi che vi ho presentato nelle scorse settimane, ve ne voglio presentare anche questa sera. È una ricetta particolare, si chiama riso e gamberetti con verdure alla cinese. È un secondo piatto delizioso, ma vi voglio dire subito subito una cosa. Voi vi siete accorti, perché mi seguite quotidianamente, che il nostro programma, noi essendo una televisione commerciale, abbiamo bisogno ogni giorno di uno sponsor, si chiamano così, per potervi presentare queste bellissime ricette che hanno sempre un grande successo. Ogni tanto lo sponsor non è un prodotto alimentare, ma è un prodotto importante per noi che viviamo in cucina, viviamo tante realtà. Ecco, grazie al mio sponsor di oggi, io vi potrò presentare la ricetta tra poco. Ma chi è il mio sponsor di oggi? È un prodotto veramente interessante, che io ho scoperto in questi giorni. Si chiama Usa e Riusa ed è preparato da Lavatelli. Che cosa fa Usa e Riusa? Eccolo qua. Dunque, noi abbiamo sempre in casa un sacco di sacchetti, andiamo a fare la spesa, non sappiamo mai dove metterli, li infoniamo in un cassetto, li andiamo a cercare disperatamente per casa. Ci ha pensato Lavatelli con Usa e Riusa. Vedete, di minimo ingombro, carinissimo. I sacchetti si inseriscono dall'alto e poi si sfilano da sotto. Guardate così, comodissimo il sacchetto. Ora vi mostro anche l'operazione del rinserimento dall'alto. Naturalmente ce ne stanno dentro tanti, guardate. Li prendiamo, li utilizziamo e abbiamo così tanti vantaggi con Usa e Riusa Lavatelli, perché possiamo riutilizzarli i sacchetti. Sapete che c'è un discorso ecologico, un discorso che va assolutamente rispettato. I sacchetti vanno riutilizzati ma non sparpagliati per casa. Allora ci aiuta Usa e Riusa. Adesso che vi ho presentato questo interessante oggetto, vi rimando tra poco per presentarvi la ricetta del giorno. Grazie a Lavatelli.